Ben tornati a SOS Rezzo TV, siamo in via Tiziano, ci ha chiamato il signor Claudio Righi che ci ha chiamato per un problema, noi avevamo stati qui già l'anno scorso e avevamo notato questa situazione qui di questa piantagione, però la situazione è molto peggiorata. Questo degrado, perché qui nemmeno nell'estrema periferia si può vedere una cosa in questo modo, noi abbiamo tre nipotini, si arriva fino a qui che è pulito il marciapiede e poi da qui bisogna uscire fuori, andare per la strada e costeggiare fino a giù in fondo perché ci sono 60-70 metri di marciapiede che viene pulito una volta all'anno con insistenza e dopo aver chiamato anche la televisione spesso e volentieri. Se no, niente, ho già fatto il reclamo, mi hanno detto che non ci sono soldi, ma i soldi per un grande lavoro lo posso capire se si tratta di 10, 20, 30 mila euro o anche più, ma questo è il lavoro da 50-100 euro se prendono un operaio con un frullino e lo mandano qui a pulire. Questo è privato, no? La parte interna è privata, non si sa ora chi è il proprietario, però è sempre di qualcuno. Avrebbe l'obbligo, diciamo. Avrebbe l'obbligo una volta all'anno di tagliare tutto e anche disinfettare tutto quanto perché ci sono talponi, topi, c'è di tutto e di più. Io abito qui di fronte e spesso e volentieri alla nostra cantina abbiamo i bambini di qua e di là che li facciamo giocare qui e alla nostra cantina arriva un po' di tutto. Tutto arriva, quindi anche questo è una cosa che bisogna sempre insistere per fargliela tagliare. Abbiamo aspettato che smettersi di piovere un po', quindi non è una cosa diciamo bella da vedere, ecco. E infatti qui, ecco, se uno volesse andare in questa marciapiede, chiamiamolo marciapiede. Anche senza passeggino, anche senza niente, faccio vedere che qui a un certo punto ci si ferma tutti, ci si ferma perché veramente non si può andare avanti. Siamo presi da erba, spini, spinaie, non è finita, qui è ancora peggio. Sì, che poi qui non c'entra niente neanche quella proprietà privata, queste sono nate qui. Poi la gente quando trova dopo che c'è il degrado, ne aggiungono altro, si vede che ci sono bottiglie di ubriaconi, gente che non ha nessuna educazione perché ci sono sia lì che qua ci sono i bidoni, i cestini, insomma per l'immondizia, buttano tutto per terra. Guardate che roba, ci scaricano di tutto. Ora, io non è che voglio, voglio una cosa giusta, insomma, almeno una volta l'anno, capito, che venga ripulito qui. E questo dura fino al bidone della futura dove ci sono. Sì, qui è bello alto e poi là è stato tutto ricoperto. È completamente ricoperto. Io non ho parole, spero che qualcuno venga, che intervenga. Magari lo facciamo vedere al vice sindaco e vediamo se interviene. Ma nemmeno in estrema periferia, ma qui ce l'ha confartigianato, siamo in zona Giotto, di qua di là. Uno che arriva anche da fuori, ci sono le macchine, insomma, si fa proprio una bella figura. Poi a me mi interessa per me, non tanto per gli altri. Quindi, vedete voi, insomma, qua proprio non si cammina per niente, è completamente ricoperto da erbacce. Poi quando c'è così, è chiaro che ci sono serpenti, ci sono talponi, c'è di tutto, insomma. E anche questo, non ho parole. Da casa mia, perché gli alberi sono bellissimi, c'è un sacco di verde, ci potrebbero fare dei giardini, ci potrebbero fare quello che gli pare, insomma, ma non lasciarlo così al degrado. E poi, perché poi viene fino a qua, insomma, il privato può fare quello che vuole, fino a quando però non incide, no, nel... Poi sarà il comune eventualmente a rivalersi sul privato che non taglia, perché intanto il comune dovrebbe tagliare. So che qualche volta l'avete multato, dopo un po' di multe hanno... Ha tagliato. Sì, hanno provveduto. Sì, bisogna sempre arrivare all'esterno. Io ringrazio il signor Claudio e vedremo di far vedere... Sì, si può fare qualcosa? Facciamo qualcosa, su. Ci fate un favore, insomma, io parlo un po' di tutti, perché abito qui, ma altri... Si stanno lamentando tutti quanti, insomma, di questa situazione. Ecco, c'è gente che ha la sede a rotelle, vengono accompagnati, devono essere sempre in mezzo alla strada. È una cosa brutta. Alla prossima. Non è da Rizzo. Salve.